My hips Ciao, sono modella, una sprintattrice come me Ti piace il mondo della moda, della tv, dello spettacolo? E allora, perfetto Inviaci subito la tua candidatura a www.wpcasting.tv Slash contact Un bacio alla WPcasting da Veronica Cosetta My hips WPcasting, cinema, teatro e spettacolo Ciao da Riva Ciao ragazzi, la WPcasting portata in Sicilia L'esperienza fatta sul Campo Milano Ragazzi, un saluto e un abbraccio a tutti dalla WPcasting Ciao Oh ciao, vuoi entrare nel mondo della moda, del cinema, della televisione? Cosa aspetti? Contrataci su www.wpcasting.tv Slash contact Un bacio alla WPcasting da Alessia Spoto Spooky, scary skeletons and shivers down your spine Spooky, scary skeletons and shivers down your spine Spooky casting, la differenza tra il dire e il fare Se lo dico io, vi potete fidare Un saluto da Alessandra Ciao Whoopcasting, per pochi ma non per tutti Un saluto da Caltagirone Sebizzacco Col cuore Mi chiamo Domenico Volevo dirvi di visitare il nostro sito www.wpcasting.tv Un abbraccio dalle Isole Olie Un meraviglioso risveglio E un saluto speciale da Anastasia A tutti gli amici di WPcasting Ciao Un saluto alla WPcasting da Nino Solano Montabano sono Spooky, scary skeletons and shivers down your spine Shripping skulls down your spine Ciao a tutti ragazzi Scriveteci www.wpcasting.tv Slash contact Sarete ricontattati al più presto Un saluto dalla WPcasting e da Roberta Manna Un saluto alla WPcasting Mi raccomando ragazzi Compilate il forum su www.wpcasting.tv Sarete ricontattati al più presto Un bacio a una Diana Florenta Anch'io faccio parte della WPcasting E tu? Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.